Poche e grandi riforme senza guardare gli equilibri politici o cercare compromessi. È necessario un serio intervento di spending review per dare respiro all'economia, per produrre benefici visibili sulla competitività delle imprese e rilanciare i consumi. È il grido d'allarme di Confindustria che attraverso il suo presidente Giorgio Squinzi e esprime tutte le sue perplessità sulla legge di stabilità in discussione in Parlamento. La legge varata dal governo, secondo l'Associazione degli Industriali, rischia di essere un'altra occasione persa. La posizione è di scontentezza, un'altra occasione persa. Abbiamo addirittura paura che una legge nata già così, tra virgolette, con pochi capitali a disposizione, sono circa solo 11, 11 e mezzo, e possa addirittura venire ulteriormente annaquata adesso in Parlamento da mille rivoli e ricattuoli a cui siamo abituati. È troppo poco. Una cosa per tutte. Abbiamo detto che la legge prevede circa un investimento di 11 miliardi su questo. Noi ne chiedevamo solo 10 per il cuneo fiscale. Ce ne hanno riconosciuti 2 e mezzo. È chiaro che 2 e mezzo non aiuta le imprese e soprattutto l'occupazione a venire rilanciata. È troppo, troppo poco. Cuneo fiscale, infrastrutture, ricerca, investimenti devono essere la priorità, anche con un aiuto esterno, un aiuto che proviene dall'Europa. Ci rendiamo perfettamente conto che soldi non ce ne sono. E probabilmente, allora, una delle cose che Confindustria ha suggerito è proprio quella di andare a bussare in Europa, andare a chiedere in maniera ufficiale che si possa uscire dal tetto del 3% e arrivare al 4, 4 e mezzo. Questo lo puoi fare solo però a fronte di un vero piano di risanamento, un vero progetto, grazie a che se ben motivato e ben strutturato potrebbe venire accolto dall'Europa.